Con l'apertura della Porta Santa, il Giubileo della Misericordia si è avviato anche per la Diocesi di Fano, Fossumbrone e Caglipergola. Centinaia di fedeli nel pomeriggio di domenica 13 dicembre hanno preso parte al breve pellegrinaggio partito dalla Basilica di San Paterniano intorno alle ore 16. La processione è proseguita fino alla Cattedrale di Fano dove il Vescovo Armando Trasarti ha varcato la porta insieme a Collins e a suo figlio Divan Digniti, il neonato di tre mesi che la giovane camuranense ha partorito il 18 settembre scorso sul balcone dei Medici Senza Frontiere a largo del Mediterraneo. Ora sono ospitati in una casa di Ronco Sambaccio insieme ad altre ragazze in attesa di ottenere lo status di rifugiato politico. Considerato simbolo del Giubileo, Divan è stato il primo ad attraversarla. Dopo di lui incortè una folla di persone che il Duomo ha fatto difficoltà a contenere e che ancora durante l'Omelia continuava ad avanzare. Questa, ha detto Sua Eccellenza, è un'occasione per crescere nel nostro senso di appartenenza all'unica Chiesa di Cristo presente nel territorio della Diocesi. Così la Cattedrale, che è la Chiesa Madre in cui sono vitalmente legate tutte le altre sparse nel territorio, ridiventerà segno e mistero di comunione. Meditare, accogliere, testimoniare e rinnovare la coscienza grazie all'ascolto della parola di Dio sono alcuni dei verbi necessari per gustare il valore della misericordia, quale vero volto di Dio. Questo significa fare i conti con la nostra ferita. Tra due persone, il misericordioso non è il più debole, ma è il più forte. Chi non si senta amato non sa amare, chi non crede all'amore vuole contare solo su se stesso, essere autosufficiente. Accettare di essere amati è molto più difficile di quel che crediamo, perché sotto sotto conosciamo la nostra misera e non riusciamo ad accettare che qualcuno ci ami come siamo veramente. Misericordia è farsi vulnerabili come Dio, lasciarsi ferire dal dolore, dal bisogno, dalla sete di giustizia di altri. Misericordia è farsi prossimi, sporcarsi le mani per fasciare e guarire, buttarsi nel folto della vita, ascoltare il grido dei poveri e il gemito di tutto il creato, consulare, lottare, pregare e agire. Per diventare realmente fratelli e sorelle capaci di accoglienza e perdono reciproco, bisogna diventare consapevoli che Dio ci ama. Volerci bene così come siamo, amarci a vicenda così come siamo e accoglierci reciprocamente nella differenza e nel dono. Nonostante la fiducia che possiamo avere gli uni per gli altri, ha detto Monsignore, ci sono sempre parole che feriscono, atteggiamenti che prevaricano, situazioni nelle quali le suscettibilità si urtano. Perdonare è guarire dentro di sé e vedere che cosa bisogna cambiare è anche ciò per cui bisognerebbe chiedere perdono e riparare. Perdonare, ha detto Trasarti, è dare spazio ai nostri cuori, ecco perché non è mai facile perdonare, occorre esercitarsi nella misericordia.